Prove generali per The Grafen Company, la nuova start-up dedicata alla produzione industriale di grafene. Situato a Fossato di Vico, lo stabilimento è stato inaugurato lo scorso marzo e l'avvio imminente dei macchinari consentirà di produrre su larga scala il materiale, fino ad oggi raro e costoso, con un processo a basso impatto ambientale. Per trasformare la grafite in grafene utilizziamo esclusivamente il materiale, il grafite, e utilizziamo dell'aria. Per cui l'impianto si divide in sistema di micronizzazione, impianto di cattura primario per le polveri asciutte, impianto di cattura secondario per le polveri bagnate, impianto di trattamento dell'aria e impianto di ricircolo dell'aria per ritornare un'altra volta al micronizzatore e così via continuare a sorgere. Scoperto nel 2004, il grafene ha numerosi usi, dalla carica veloce di batterie di ultima generazione ai materiali di costruzione, fino all'impiego nei microchip e nell'aviazione aerospaziale. La start-up ha già una ventina di dipendenti, la maggior parte giovani under 30 e numerose collaborazioni con imprese del territorio. Abbiamo già in magazzino le prime 50 tonnellate che sono pronte per essere processate, per cui contiamo entro una decina di giorni di essere operativi.